Buongiorno signore e signori e benvenuti a questo concerto online. Mi chiamo Xenia Franetta e vengo dal Montenegro. Io studio il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini a Trieste con la professoressa Luisa Selo con cui in questi giorni facciamo il workshop di musica contemporanea. Abbiamo imparato tanti effetti che possiamo fare con il nostro strumento. Per voi vorrei suonare un pezzo che si chiama Lienz di Stefano Procaccioli. Buongiorno signore. Buongiorno signore. Buongiorno signore. Buongiorno signore. Buongiorno signore. . . . Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info